perdonate il disordine allora per questo outfit ho scelto questo vestitino che vi ho mostrato nell'ultimo video acquisti che ho comprato da beshka ed è carino perché ha questa fantasia rossa con dei pallini bianchi molto carino sotto ho messo queste scarpe nere queste scarpe sono di bata hanno la zeppa però comunque sono molto molto comode quindi mi piacciono rossetto rosso capelli sciolti e asciugati naturalmente ovviamente senza phon e questi bracciali che sono praticamente fatti a tre e che mi aveva regalato una di voi con le roselline rosse piacciono tanto tanto perché si intonano al colore del vestito ringrazio la ragazza che me l'aveva regalato per l'aspite di questa sera un vestitino ogni tanto ci vuole un po più affemmina vestitino nero elegante un po affemmina così molto semplice e sotto queste scappe bellissime che so che tanti di voi non piaceranno ma io le adoro sono super comode hanno una zeppa dentro sono super comode poi questo abito un particolare dietro vedi lascia la schiena un po scoperta e con queste cose però io sopra andò a mettere un giacchettino ecco qua ho indossato questo giacchettino molto molto velato trasparente giusto per rendere un po più elegante perché stavo troppo scolacciata e quindi dietro diventa così molto elegante e fine con una borsetta questa qua è la Mianouille Vuitton che ho abbinato con il dorato purtroppo la borsa nera non ho portata perché non ho portato 3.000 borse tra dorato abbinato alle scappe buona serata stasera come outfit ho scelto questa gunna l'ho comprato qualche anno fa da stadivarius non è nuova invece questo top è nuovo ed è troppo troppo carino perché porta dei ricami porta dei ricami sia qua che appunto sotto e sono molto carini perché la rendono appunto particolare con questo lavoro diciamo a uncinetto invece l'ho comprata proprio prima di partire questo crop top da taily welly taily welly non so mai come si pronuncia e poi sotto ho messo le solite scarpe le zeppe che avevo super comode perché dovrò camminare che ho comprato sempre quest'estate da bata con la lina di perline che mi ha fatto mia mamma con bacione di perline basta look molto molto semplice e fresco estivo come borsa ho messo questa qua di me con corse che ho personalmente adoro che ne come le bianca con questa qua dorata che si può portare sia così che diventa più corta oppure così diventa più lunga secondo me va molto bene con questo look perché è bianca stasera per outfit poi ancora giorno dato che dobbiamo camminare un po ho deciso questi shorts stato date zenis e vi ho mostrato in uno degli ultimi video acquisti con mia sorella mi piacciono moltissimo sono molto comodi poi hanno le frange e anche se sono molto gambati dietro però che state e ci vuole poi ho messo queste scatte molto molto comode che sono nuove ho comprato da poco ma hanno un po di zippa sotto e sono tutte forate quindi vanno senza calzine sono molto fesse quindi dato che dovrò camminare per me sta un po sportiva top che molto molto carino a costine appunto crop top è un altro carino e niente ma c'è stori di bracciato di perlino questo codino molto molto semplice i capelli che si stanno asciugando all'aria e poi sucra per se ho freschetto metto questo qua che anche per coprire un pochino magari il dietro del pantalone che è troppo sgambato questo qua che ho comprato da hm il cdm non so cosa sia comunque io lo uso così aperto tipo per zacchino e la mia borsa di me concorso appunto la solita bianca mi piace questo outfit per l'appet di questa sera ho scelto questo vestitino che è molto molto carino e fresco molto estivo in pratica una tutina che ho comprato proprio negli ultimi giorni da stradivarius e ha pochissimo quei saldi quindi mi è piaciuto tantissimo e l'ho preso e ho abbinato per spezzare un po il nero e renderlo un po più leggero questi sandali che sono marroni e dorati che ho comprato nella vacanza che avevo fatto ad agropoli che avevo fatto anche il blog se vi ricordate e abbinati ai sandali poi questa questa borsa che la mia michael kors che mi ha regalato mia sorella che adoro tantissimo ed è proprio abbinata allo stesso marrone e dorato dei sandali quindi perciò per spezzare un po e poi semplicissimo trucco e semplicemente un bracciale di perline una collina di perline che mi ha fatto mia mamma che adoro tantissimo e il look è completo per una sera d'estate molto chi si stasera per questo outfit ho scelto questo vestito che so che a tante di voi non piacerà però mi piace carino insomma visto che siamo in un luogo di vacanza si può anche usare una sera quindi tutto leopardato a mia sorella lenti secondo me piacerà tantissimo lasciami un commento i capelli li ho lasciati tutti sciolti così naturali perché secondo me vanno bene con questo stile selvaggio comunque il vestitino l'ho comprato da telly whale penso si dica così ve l'ho mostrato anche in uno degli ultimi video shopping acquisti e appunto l'ho comprato proprio quest'anno ed è molto molto carino casa molto bene sotto ci ha abbinato sempre queste solite scarpe con lo dorato che hanno un po di zippa e sono comodissime per camminare e la mia borsetta lui vitton che è molto molto carina e secondo me va bene anche se c'è un altro logo troppi logo non vanno bene troppe fantasie ci sarei voluta un'attitudine però o solo questa quindi questo è tutto spero che questo outfit vi piaccia mi raccomando fatemi sapere nei commenti quale outfit avete preferito 1,2,3,4,5 lasciate tanti commenti e tanti like ciao ciao Grazie a tutti.